Adornato? Eccolo, votato. Turco? Colonnesi? Ecco, votato. Palese? Palese non riesce a votare. Colonnese neanche. Prego, Palese ha votato. Colonnese? Frusone. Guardate un po'. Va bene? Hanno votato? Dichiaro chiusa la votazione. Non accettiamo la riformulazione perché ci pare assai generico l'impegno del Governo a fronte del fatto che questo è un settore nel quale i contratti sono bloccati da sei anni e il DEF 2015. La devo interrompere perché mi dicono gli uffici che il tempo ha esaurito, dunque non può fare l'intervento. La ringrazio. Comunque accetta la riformulazione? No. Allora lo votiamo. Dichiaro aperta la votazione. Capelli. Capelli. Allora, chi altro? Fanucci. Simone Valente. Simone Valente. Bene. Hanno votato tutti? Grillo. No. Grillo. Molteni. Molteni. Allora, Grillo ha votato. Molteni, prego. Ecco, ha votato. Bene. Dichiaro chiusa la votazione.